Mareggiata a Campodimare, l'acqua è avanzata per decine di metri sulla spiaggia divorando ampi tratti di sabbia e trascinando via sdraie e ombrelloni. La furia delle onde ha riproposto l'antico problema della mancanza delle protezioni davanti alla costa. Infatti nella frazione balneare i progetti anti-erosione sono rimasti lettera morta. È inconcepibile che la spiaggia di Ladispoli dove sono arrivate altri fondi per le barriere sia considerata differente da quella di Campodimare. Da anni in questa località si attendono interventi risolutivi, ha affermato il presidente dell'associazione nautica Celso Caferri, che prosegue. La costa è unica e il suo valore turistico è omogeneo. Condividiamo la palude di Torre Flavia, non comprendiamo queste disparità di trattamento. Tutti gli operatori balneari stanno stringendo i denti ma l'arrivo di altre violente mareggiate potrebbe mettere in ginocchio il settore, ha concluso Caferri.